buongiorno a tutti ragazzi amici del canale youtube e a tutti gli appassionati di campane come me oggi ci torniamo a ripresa di San Nicolò Sessi e Andilaciano abbiamo un concerto di quattro campane e adesso ascolteremo, sarà per mezzosorno, vi rifiuntare un po' a se vedere questo è il campanone questa è mezzana, tre mezzana, il solello, qui c'è doloroso, fuminato perché non funziona più e quindi a presa, doldo, campanato, roto, ascolto a tutti, ciao! Grazie! 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 Grazie!